Rock Night Show, Radio Godot Ci sarà nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste che le sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui gli fa battere il cuore anche a quell'altro Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione Saluti in poesia di Agnese Monaco Altro venerdì, altro giro di poesia qui con me, Agnese Monaco, per saluti in poesia all'interno del Rock Night Show del Drago che ringrazio Sono Animo No Inizio subito nel leggervi la poesia intitolata A metà Da vicino osservo pianti Da lontano scruto ambiti santi Che salvino la mia anima Stimata da una lacrima A metà tra follia e normalità La mia vita scorrerà Scontata da versi Che la mano crea Grazie a questa mia pazza idea Di improvvisarmi Poeta senza armi La pella mi manca Mentre tutto il resto mi stanca In questa falsità Di credere Nell'irrealtà Di superbe anime Che attira in otto un ignaro Sciame Bene, questa è una delle poche poesie Ancora rimaste superstiti Dove ho una rima Una rima incrociata Bene, per qualsiasi domanda O informazione su di me Potete scrivermi Nei miei social media Che sono Facebook Agnese Monaco Official La pagina Mi raccomando Sono la pagina Oppure su Instagram Monaco Agnese Su TikTok Agnese Monaco Uno scritto al numero E anche ovviamente Su Youtube Olli Agnese Non vi resta Che augurarvi Una buona serata Siamo il prossimo Venerdì Sempre qui su Radio Godot Sempre qui al Meraviglioso Rock Night Show Del Drago Un bacio Ciao Rock Night Show Radio Godot